Perché per me è una delle prime performe. Era una donna di fine ottocento, capocomica. Sceglieva i testi, sceglieva i suoni, sceglieva i componenti. E per lei era molto importante il rapporto di testi. Però essendo una performante lavorava sull'interpretazione, quindi sull'atmosfera. Che viene creata con tutta una serie di componenti. Chiaramente voi avendo delle strutture così straordinarie. Avete tutta un'altra serie di elementi. Giù da Land Art. Land Art. Su cui lavorare. Una volta che il teatro è entrato e si è chiuso dentro lo spazio scenico. Ma oggi, fondamentalmente, abbiamo tantissime tecniche. Sì. 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 Dio. Sì. No. Sì. No. No, perché lui diceva che la domanda che ha praticamente era questo processo dello spettatore che era diverso di qualche modo, è e oggi, quando si usano gli elementi della politizzabilità. è una cosa che uno già conosce non deve mettersi nella prova di entrare in un testo, entrare in una storia io gli ho detto che è una cosa che diceva anche lei che sia se si parte dal testo che da una pubblicità il testo c'è comunque nella pubblicità perché in tali anni è l'esperienza non so se gli vuole dire qualcosa cioè secondo lui è meglio che lo spettatore faccia la partita di contarsi con un testo è un processo qui dice non è che è più importante o meno c'è comunque una grande differenza nel processo in un caso deve diventare in alto invece nell'altro caso si però non è detto perché se tu fai un testo e lo ripeti l'eutidemia ha pareto aspetta però devi tradurre esattamente le cose che sto dicendo perché se no ti rispondere tu prima di me no 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 allora c'è la possibilità di mettere in scena un testo in cui lo spettatore e l'attore perché se l'attore non fa il processo può fare anche lo spettatore quindi l'attore e la compagnia devono riatraversare un'icona di testo e quindi è un viaggio che fa tutto l'organico se questo entourage fa un lavoro profondito su e giù spaziale chiaramente con gli antichi ma anche con il presente hanno avuto i analisi di un pochino di te perché sti srisse alla che sto parola perché Medea cosa vuol dire fare oggi Medea e quindi i media le ha parato ma ti ti pare una bisimera cammina di media al suo teatro ho visto in Italia tantissimi registi che hanno attualizzato la tragedia ma rimane piccola piccola parla con i miei schienotepi che si è in Italia che si è una effera questi schieni che ti ammiglia a San Kimeno come con questo Kimeno all'America parla con i micro io ti prego si è un pochino di parla con i miei ti ne dobbiamo fare un po' e quindi è importante il processo di lavoro della compagnia se c'è una trasformazione della compagnia legata al testo allora anche il pubblico ma se non c'è diventa un vecchio testo e basta quindi il problema è come mettere la vita quindi anche che si è un pochino di parla con i miei schienotepi che si è un pochino di parla con i miei schienotepi e che si è un pochino di parla con i miei schienotepi e modifica il pubblico che si può diventare solo spettacolo bidimensionale perché all'imba rimane una disdiazza una disdiazza di parla ma non è un pochino di parla se non è un pochino di parla non so se ci sono altre domande lei ha di parla se non ci si sarà a carina quantissima si ringraziamo anche anche io ringrazio moltissimo voi se capiva se non è un pochino di parla se non ci si può scrivere ma se dicendo che in qualche modo lei ha risposto non lo trovo a un altro film vuole fare parla parla della tv variazioni ma parla questo io ci è am 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 am